tra pochi minuti danilo fabbroni ci presenta il suo libro che vedete qui un libro molto fuori dal comune sul 68 un anno particolarmente importante perché in quell'anno è successo un po di tutto e gran parte di ciò che sta accadendo adesso è nato proprio sulla scia del 68 quindi sarà un argomento trattato per l'ennesima volta da una prospettiva molto diversa si sa che sull'orizzonte degli eventi le prospettive cambiano e possono diventare molto molto singolari tra pochissimo grazie buonasera ben ritrovati sull'orizzonte degli eventi con un nuovo appuntamento incontri con l'autore un autore che mi ha particolarmente incuriosito perché ha scritto un libro su un argomento di cui si è scritto tantissimo ma questo approccio in particolare sarà vedrete e sentirete molto originale io saluto e do il benvenuto a danilo fabbroni buonasera a tutti la ringrazio per avermi chiamato all'appello come si suol dire a questa intervista e grazie a coloro che poi l'ascolteranno bene io partirei subito con una domanda un po un po sul 68 si è scritto di tutto si sono scritti tantissimi volumi più che altro apologetici però libri che celebravano il 68 come qualcosa di quasi mitologico è diventato un mito il mito del 68 invece il suo libro è molto particolare perché dunque il libro è nato ci si può credere o non credere soprattutto non credere per chi conosce un po i meccanismi dell'industria culturale è nato per un caso è un caso molto reale cercherò di riassumere brevemente a un mio carissimo amico che purtroppo è scomparso ormai da alcuni anni che risponde al nome di gianni collu mancò quasi improvvisamente la sua cara moglie era una persona che mi ha fatto da mentore una persona con cui mi sono confrontato per tanto tempo e lo vedevo un po spento dopo il triste episodio e una volta mi successe rientrando a casa e ne faccio brevemente cenno anche nel libro mi successe di trovare un conato di vomito all'inizio del condominio dove abito e mi venne spontaneo non so neanche io come mai dire ah il vomito del 68 è una signora una signora distinta che sì che appunto i sessantottini descriverebbero borghese vestita mi disse incrociandola sì sì è il vomito del 68 questa cosa mi è rimasta in mente per un po di tempo e a un certo punto in una delle innumerevoli e lunghissime telefonate che scambiavo con gianni collu mi venne in mente di lanciare questa idea di scrivere di scrivere o perlomeno di pensare addirittura perché scrivere non avevo nulla in mente un libro sul 68 e lui colse sapevo l'altra parte che che avrebbe colto l'idea molto volentieri e si incominciò a ragionare su 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 che pista seguire proprio perché come diceva lei specialmente in italia c'è un profluio una marea oceanica di di testi sul 68 che diciamo al 98 per cento con poche rare eccezioni lo sannano e lo sannavano e così ho iniziato a scrivere e in un confronto che è durato diciamo più o meno un anno è venuto fuori poi questo libro si può dire che la metafora che lei ha usato significa forse che il 68 era qualcosa che c'era rimasto in gola e che abbiamo dovuto in qualche modo buttare fuori perché aveva come qualcosa di liberatorio no perché effettivamente c'è un retaggio che ancora condiziona pesantemente questo questo questa attualità e che deriva appunto da da tutto quello che è stato messo in pratica a partire dal 68 che è stata una rivoluzione molto poco spontanea no mi pare di capire dall'aver letto il suo libro il sottotitolo che opera e opera ma anche il titolo direi perché io avrei voluto chiamare veramente il libro il vomito del 68 ma ma collo diciamo mi fermò si oppose in un certo senso perché lui ravvisava che una certa critica verso quel movimento era in atto ma era una critica che come tante critiche purtroppo alla fine della fiera si mostrano apologetiche si mostrano positive verso quel movimento e il sottotitolo è molto significativo cioè le magie i veleni incantesimi che si sono visti attuare durante il 68 sono gli stessi identici mutando quello che ovviamente c'è da mutare sono avvenuti nel nord africa nei ultimi 10 15 anni dove le famose rivoluzioni colorate sono state adescate usiamo questo termine con le stesse tipologie con gli stessi scopi e le stesse finalità perciò certo io avrei voluto rigettare e rigettare quello quello che è il 68 ma sarebbe un rigetto molto impegnativo perché tutte le persone questa secondo me è una riprova di quanto quel movimento fu fittizio e sintetico perché tutte quelle persone che hanno partecipato fattivamente a quel movimento sono state premiate nella maniera più assoluta ma questo è avvenuto poi anche negli anni di piombo negli anni 70 sono state assolutamente premiate da questa società attuale e per concludere la risposta alla sua domanda è tutti quei valori che il 68 ha sdoganato sono oggi nella vita comune la narrazione del anche diciamo del popolo della della populace sia a destra che a sinistra ha gli schemi precisi precisi di quello che ha portato in auge il 68 cioè il vietato vietare faccio sempre un esempio del condominio molto spicciolo ho incontrato una persona che andava contro mano in un senso di marcia del condominio e ha detto che non gliene importava in altri termini in cui non in questi ovviamente non gliene importava assolutamente di nessun divieto quindi il vietato vietare famoso del 68 oggi al potere concludo con dire che si è persa invece una parola che che era un falso obiettivo un falso target del 68 conformismo se lei fa caso nessuno accenna più a questa parola eppure viviamo nell'epoca forse più conformista che la storia dell'uomo ricordi. Sì sì sono pienamente d'accordo è un un conformismo che si può chiamare anche omologazione se vogliamo citare Pasolini che è stato un un profeta e poeta e profeta e ha saputo vedere molto bene quello che sarebbe stato il nostro futuro a proposito di vietato vietare ecco questo era uno famosissimo slogan appunto del 68 assieme alla fantasia al potere esatto slogan e poi ce n'erano anche di molti più violenti che poi sono sfociati negli anni di piombo come diceva giustamente lei altro periodo che oggi è stato completamente cancellato forse perché quello che si voleva ottenere è stato ottenuto quindi assolutamente ecco vietato vietare dunque oggi praticamente in nome del di una società che spinge al godimento fino a se stesso non finalizzato a nessuno scopo proprio il godimento fino a se stesso non si può vietare qualsiasi cosa che miri a questo godimento fino a se stesso però per esempio è vietato esprimere le proprie opinioni se non sono all'interno del pensiero unico quindi non è la grossissima contraddizione questa è paradossale no vietato vietare non so per carità perché vietare di mangiare cani e gatti perché ci sono delle culture che li mangiano quindi se noi ci opponiamo a questa cosa discriminiamo queste culture però non si può dire non si può dire che si è contro una certa distruzione del preesistente perché di questo è di fatto quello che sta succedendo si sta cercando di distruggere tutto quello che è preesistente tornando appunto a 68 faccio questa domanda nel suo libro si identificano tre filoni dove questa certo rivolta prevalentemente giovanile ma poi vedremo diretta da persone che erano ben adulte vaccinate lei utilizza la metafora del tridente esatto sesso droghe rock'n'roll certo il tridente di shiva vorrei sottolineare sì il tridente di shiva non è un accenno diciamo così coloristico perché poi adesso ovviamente non possiamo addentrarci su diciamo nelle minute del testo perché ci sono anche perché vogliamo che lo legga sì certo certo solo di notte un invito alla lettura speriamo speriamo e dicevo che il riferimento all'oriente non è casuale perché poi nel testo si cerca di dar conto di dar conto di quanto importante è stato ovviamente sottolineo fra parentesi in maniera negativa all'influsso l'influsso orientale che ha fatto da veicolo a certe tematiche che le elite tecnocratiche iniziati che finanziarie volevano volevano che prendessero che prendessero il potere questo tridente di shiva come le come le diceva poi coincide con un famoso motto pop sesso droga e rock e roll che sembra modernissimo ci appare modernissimo è stato ritirato un po anche dal movimento punk come tutti sappiamo ma che in realtà se si va a scavare se uno ha un po un occhio da diciamo da osservatore da critico e da narratore questi tre elementi che permettono permettono diciamo la dissoluzione sono presenti sempre in tutte le maniere nei movimenti ereticali nelle sette gnostiche fin dall'antichità voglio dire è stata diciamo reinverdita per quegli anni una prassi che in realtà ritroviamo coltivata più o meno in maniera sotterranea su tutti i movimenti gnostici sì che questa è una cosa che che ritorna prepotentemente in tutte le in tutti in tutte le conversazioni che sto facendo appunto anche col professor pennetta dove abbiamo parlato si ho seguito si di un del fenomeno degli ufo che viene da lui e anche dal professor marletta letto come un fenomeno esoterico che può avere delle forti radici esoteriche questa agnosi che ritorna questo tentativo di sostituire la religione con una religione nuova che poi tende alla appunto a quella a quell'individualismo sfrenato un individuo che pensa solo al suo piacere non nemmeno al suo futuro perché vive una vita molto confinata nel presente il 68 nel suo libro risulta un movimento affatto spontaneo ma costruito costruito potremmo dire anche in laboratorio perché poi ci sono anche delle sostanze che sono state create in laboratorio e che di cui lei parla e che sono state usate durante ecco vorrei che lei mi racconta ci raccontasse da dove parte il il suo libro che mi pare parte da un testo un testo americano assolutamente sì che non è stato tradotto in italiano come tantissimi libri molto interessanti assolutamente ecco questo AC dreams esatto ci parli poco di questo libro e di come poi da questo libro si è passati al suo sì come come si sa penso che lei condividerà tutti tutti i libri e nascono da altri libri ma questo non lo dico per per diciamo né giustificarmi né sminuirmi in qualche forma anzi io ho sempre considerato i testi diciamo di una cultura io la chiamo alternativa che non ha nulla che vedere il mio termine con la cultura alternativa ma diciamo l'altra l'altra voce quella dei dei poveri di chi appunto molte volte non ha voce dei di chi appartiene a una vera minoranza questi testi hanno avuto sempre una grandissima attrazione su di me voglio fare un inciso non ho mai considerato e mai considerato e mai considererò un testo diciamo minoritario che appartiene a questa cultura come una verità oracolare non è detto che un testo che è stato rifiutato da tanti da tanti editori e che non ha avuto diffusione per forza di cose perché è un outsider è una mosca bianca è un testo che ha la verità in tasca per carità la mia domanda di fronte a questi testi è una e una sola come mai come mai visto che c'è una vera e propria inondazione di informazioni come mai questi testi vengono passati sotto sotto silenzio e la mia curiosità la mia osservazione si muove si muove da questo e quando facciamo diciamo quello che può essere un briefing con collo su come diciamo affrontare come rompere il ghiaccio sappiamo tutti che il vuoto per qualsiasi persona non avere non avere un punto di partenza e costituisce una grande difficoltà il la al libro fu dato da questo testo collo mi consigliò di lei di procurarmi lo lo feci e lo lessi e rimasi sballordito ma perché rimasi sballordito perché io non ho vissuto il 68 diciamo l'ho vissuto ma ero troppo piccolo ho vissuto pienamente gli anni di piombo io sono del 1956 però io già del 70 scrivevo di musica e perciò voglio dire il 68 per me è stata un'identificazione e anch'io caddi caddi in quella in quella rete e leggere quelle cose che questi due autori di exit dreams hanno riportato con uno studio tra l'altro mirabile perché loro si sono avvalsi del foglia che è una legge devo dire molto meritevole americana dove ogni cittadino americano può richiedere al governo di di consultare leggere vedere eccetera eccetera documenti governativi e questi due giornalisti ebbero ebbero una quantità enorme di documenti governativi e rimasero sballorditi perché in poche parole qual è qual era diciamo la novità veramente incredibile di questo studio è che l'LSD ecco perché si chiama ovviamente sogni acid l'LSD che tutti noi abbiamo pensato fosse una cosa spontanea non era assolutamente spontanea prima di tutto perché l'LSD non è una cosa che diciamo come la marijuana si può coltivare nel terrazzo di casa è una sostanza chimica chimica a tutti gli effetti di una certa complessità e tant'è vero che fu sintetizzata dalla Sandotz e non diciamo in un ghetto o in un sottoscala ma diciamo a poca a distanza da qua cioè oltre in confine in Svizzera a Basilea a Basilea esatto dalla Sandotz che oggi si chiama Novartis e perciò voglio dire con tutti i crismi come si suol dire dell'ufficialità e la prima grande enorme partita fu ovviamente ovviamente a detta a detta di questi due studiosi che hanno visto io ovviamente non non ho toccato con mano non ho letto gli atti governativi ma esistono attenzione esistono ormai nel mondo anglo americano esistono testi su questa falsa riga diciamo perlomeno che toccano i 10 i 15 i 15 i 15 libri perciò voglio dire non è non è la classica leggenda metropolitana voglio dire ma lo stesso timoti liri uno dei grandi guru guru del 68 ha ha detto francamente che era in collegamento con con la cia perciò la sorpresa che io ne ebbi è che la diciamo uno dei tre elementi del tridente diciamo delle delle leve sconquassanti uno importantissimo era una cosa alla luce diciamo alla luce del sole e fu la prima grande quantità fu ripeto importata dalla cia e distribuita ecco lì le magie i veleni incantesimi attraverso una comune hippie chiamata the brotherhood of love la fratellanza dell'amore che in realtà e anche qui esistono dei libri che è chiamata oggi come oggi la mafia hippie perché erano dei veri e propri delinquenti che si approfittavano diciamo della voglia di paradisi artificiali della gioventù da lì il libro come si suol dire ha rotto il ghiaccio o perlomeno l'ha rotto perlomeno per me che lo stavo scrivendo e da lì mano a mano è andato avanti e una particolarità del libro è che non si parla chiedo scusa solamente degli Stati Uniti ma tocca lo scenario inglese lo scenario tedesco quello francese e quello e quello italiano tra l'altro mi pare di ricordare di aver letto che una grande quantità di LSD veniva prodotta in cecoslovacchia e sì una buona questione qui c'è un parallelismo con l'affermoro che ovviamente diciamo le elite tecnocratiche iniziatiche finanziarie non proprio per questa definizione non hanno confini perciò è facile pensare che ci sia stato anche un aiuto fattivo da oltre cortina definire poi nei dettagli è molto difficile perché se fosse una materia chiara sapremmo come morto Moro sapremmo tutti i risvolti di Piazza Fontana e voglio dire un grande giornalista come Paolo Cucchiarelli e voglio dire ancora ancora ci sta indagando. E poi adesso noi stiamo parlando del 68 che è l'anno proprio di esplosione di tutta la rivolta contro diciamo l'ordine costituito che è diventata una parolaccia però in realtà è insomma anche uno stato di ordine delle cose insomma il caos che viene invece perseguito appunto da questa elite non porta niente di buono lo stiamo vedendo anche in questi anni. Dopo il 68 poi venne il 69 dove sono successe delle cose anche lì molto interessanti e poi il 69 è stato il portale che poi ha introdotto gli anni 70 dove è esplosa una violenza particolarmente brutale dove insomma dalla fantasia al potere si è passato insomma alle pistole, alle P38 e alle stragi e tutto il resto. Però tornando appunto all'utilizzo della droga ci sono anche dei documenti che parlano di esperimenti condotti con l'LSD a scopo di controllare la popolazione. Addirittura ci sono dei video molto curiosi dell'esercito americano dove si vedono dei soldati ai quali è stato somministrato l'LSD e ovviamente perdono qualsiasi, alla fine sembrano delle comiche perché evidentemente quando cominciano le visioni non sono più controllabili questi e sono esperimenti che sono andati sono iniziati anche molto prima del 68, si parla degli anni 50, del resto l'LSD mi pare che sia stato sintetizzato negli anni 40, che Hoffman a sua volta aveva studiato, c'è il suo libro che si chiama LSD il mio bambino difficile, se non sbaglio, che è molto interessante perché dunque lui racconta come è arrivato fra l'altro casualmente per serenità all'LSD, ma lui fece degli studi molto approfonditi sulle curanderas sudamericane, sui sciamani, quindi non ha inventato nulla, insomma è riuscito a sintetizzare qualcosa partendo da sostanze che anche nelle epoche precedenti avevano queste caratteristiche allucinogene. Quindi l'LSD viene importato negli Stati Uniti e viene somministrato come droga ricreativa come droga che apre in qualche modo la mente, o le famose porte. Certo, le porte della percezione, perciò ci riferiamo ovviamente a un mito della musica pop, tutti l'avranno capito, The Doors, no? Jim Morrison, ma ci riferiamo anche, questo è molto importante, anche Aldous Huxley, e qui illustrerei un po' una costola, una linea di faglia di un collegamento che riunisce lo scenario americano, in special modo quello californiano, all'Inghilterra, perché in realtà questi semi erano già stati gettati culturalmente. Lei ha ragione quando dice che, penso che lei si riferisca all'esperimento mai famosissimo MK Ultra, ma nel 68 Timo Tiliri stesso era stato impiegato, a parte che Timo Tiliri veniva già da un ambiente di alto livello e veniva impiegato dalla CIA in esperimenti. Ci saranno forse dei giovani che non conosceranno Timo Tiliri, ma Timo Tiliri è stato il profeta dell'LSD, perciò diciamo l'angelo annunciatore di questo nuovo mondo, il grande sole dell'avvenire, ma in realtà collaborava spontaneamente con la CIA in un programma di… poi anche lì, ripeto, i dettagli non si sapranno mai, voglio dire, la scusa potrebbe essere per Timo Tiliri che poteva aiutare i prigionieri a confessare in una maniera propria eccetera eccetera. Altri complottisti, io no, magari crederanno che invece l'uso della droga sia servito per programmare certe persone, ma al di là di questo è importante capire che quello che successe nel quartiere dove scoppiò la famosa Summer of Love, l'estate dell'amore, ad Hyde Ashbury in California, era in realtà una coltivazione, diciamo, culturale degli ambienti inglesi e specialmente del famoso, per chi si interessa un po' di questi argomenti, istituto Tavistock, che è un istituto anche lì, diciamo, un po' strano, che destra una certa curiosità, perché un istituto psichiatrico che doveva, che ha, diciamo, nella sua ragione di essere quella di aiutare i reduci della guerra e in realtà ha prodotto protocolli, chiamiamoli così, comportamentali che non c'entrano nulla, nulla, tant'è vero che in Italia abbiamo avuto l'ondata dell'apertura dei manicomi attraverso Basaglia, Basaglia è un figlio di Cooper e di Leng che sono stati due psichiatri del Tavistock, perciò quello che mi preme sottolineare che il vero potere non sta tanto nei cavo delle banche dell'elite, ma sta nelle biblioteche, cioè, voglio dire, nelle biblioteche dove albergano delle persone che possono mettere in atto dei vincoli, dei legami, come diceva Giordano Bruno un po' di tempo fa, anche quando non c'erano i social, ecco perché di nuovo il sottotitolo del libro rimarca Magie, Veleni e Incantesimi, perché di questo si è trattato, attraverso l'uso di immagini, di metafore, di suggestioni, si è creata una svolta culturale che ha dell'incredibile, come lei sottolineava, la guerra verso l'ordine costituito, ma soprattutto inteso come la figura del padre, e assistiamo oggi a un recupero isolato da certi psicologi perché il padre che ha sempre incarnato la legge, il nomos, doveva essere distrutto e questo è stato ottenuto, voglio dire, è incontrovertibile oggi. E vorrei sottolineare una cosa che a dispetto del nome, la Summer of Love, se uno va a studiare certi testi apparsi negli Stati Uniti, fu in realtà un bagno di sangue spaventoso, del resto lo testimonio un film che è uscito da pochi giorni, l'ultimo di Quentin Tarantino, della strage di Manson, ma non c'è solo quella, è stata una scia di sangue, di suicidi e di omicidi spaventosa, perciò l'immagine che è stata contrabbandata vedendo gli hippis con i fiori nei capelli, è un'immagine totalmente falsa. Sì, diciamo che, per tornare al discorso dell'elite, è stata somministrata al popolo una dose da cavallo di materialismo, ma invece l'elite ha continuato a coltivare tutto quello che non è affatto materiale, ma è profondamente spirituale o controspirituale, si può dire. Quindi oggi, dicevo con il professor Pennetta, dicevamo che a un certo punto abbiamo perso di vista la New Age, ma perché? Perché c'eravamo dentro e non la vedevamo più. Assolutamente. Ecco, in quell'anno, in quegli anni, insomma gli anni 60, si pongono le basi per questa esplosione della New Age, attraverso queste religioni sostitutive, attraverso tutto un sistema che porta a un falso spiritualismo che in realtà deve allontanare dalla spiritualità di qualsiasi tipo. Ecco, la droga è stato un, diciamo, un mezzo per scardinare anche la volontà. Un piede di porco, certo. Un altro è stato il sesso, possiamo dire anche la rivoluzione femminista. Assolutamente, è un corollario. Quando parlava di Timothy Leary, una famosa esponente del movimento femminista, Gloria Steinem, anche lei ha confessato recentemente che anche lei era libro paga della CIA. Quindi, noi facciamo un piccolo disclaimer, non siamo complottisti, perché tutto quello che stiamo dicendo è ormai acclarato in decine e decine di testi, di testimonianze, di documenti, di chi vuole studiare quello che ormai è storia, perché sono passati 50 anni, quindi possiamo chiamarla storia. Ecco, il merito di un libro come quello di Fabbroni è di avere riunito tanti filoni e tanti ragionamenti attorno a questo mito del 68. Però che nell'esplosione della droga ci fossero determinati interessi, che nel femminismo ci fossero determinati interessi, questo ormai è innegabile. Quindi, non è complottismo, sono semplicemente i fatti. Quindi, il discorso del padre, no? E poi anche questa ricorrenza della parola amore. Oggi uno slogan molto utilizzato è love is love, no? Assolutamente. Tutto è amore, compresa la pedofilia che sarà il prossimo traguardo. Esatto. Quindi love is love è uno slogan che oggi, insomma, si ritorna a questo utilizzo della parola amore molto, molto discutibile. La rivoluzione femminista ha fatto il resto. Di fatto oggi l'uomo è in una crisi spaventosa, viene messo in discussione continuamente il suo ruolo, la sua identità, la sua sessualità, tutto veramente. Essere uomo oggi, io ritengo che sia molto più difficile che essere donna. Un altro elemento molto potente del 68 e a cui lei prima ha accennato un attimo, ma vorrei che sviluppasse, è quello della musica. Il ruolo della musica, della cultura giovanile che si esprimeva allora appunto attraverso la musica, in questo tridente. Quindi abbiamo il terzo, la terza punta, il terzo elemento. Nella musica anche lì ci sono state delle scoperte interessanti, no? Assolutamente. Che lei ha fatto sul retroscena familiare di molti divi del rock. Nella musica di nuovo bisogna ricordarci che nelle antiche sette, ma voglio dire gli studi di antropologia e di etnologia l'hanno ampiamente dimostrato, lo sciamanesimo e le tecniche dell'estasi descrive proprio l'uso, molto interessante perché parla di un uso di una musica molto ritmata che ha ovviamente dei rimandi all'attualità, la musica house, la musica della discoteca, eccetera, eccetera, dove il beat, il ritmo ha un ruolo preponderante rispetto all'armonia e alla melodia. Perciò di nuovo queste tecniche non sono una scoperta di oggi, ma sono solo una riviviscenza di quello che è stato usato in passato. Detto questo, mi dispiacque che quando io ho detto il visto si stampi, quando il libro fu ormai chiuso e dato alle stampe, venne in possesso di un testo che si chiama, lo dico in italiano, Strane storie nel canyon chiamato Laurel di David McGowan, che anche questo ha dell'incredibile perché si vede che un numero incredibile di grandi personaggi della musica pop derivano tutti da famiglie che hanno avuto legami con l'intelligence, ma addirittura, non so, David Crosby, Frank Zappa, eccetera, eccetera. E nel loro canyon, di nuovo in California, c'è stata una scia di sangue che ha dell'incredibile, fra suicidi, morti di droga, omicidi, stragi, eccetera, eccetera, che è stata anche lì una storia dimenticata, perciò volontariamente o no è stata diffusa un'idea del 68 come di un paradiso artificiale che si poteva toccare in terra e si poteva realizzare in terra, ma ci siamo poi dimenticati che in realtà le fasi salienti sono state violenti, quindi allacciandomi alla famosa teoria di Freud, l'eros andava a braccetto con Thanatos, cioè l'amore andava a braccetto con la morte, voglio dire, non con un mondo migliore. E la cosa che mi colpisce oggi come oggi, che nella vecchia società borghese che il 68 ha voluto distruggere, ha distrutto, nei tempi esecrabili per carità del delitto d'onore, parlo dell'Italia, non ho contezza di altri scenari esteri, ma le donne che morivano in Italia per mano violenta erano pochissime quando oggi assistiamo a una morte di una donna quasi ogni settimana, perciò la liberazione che ci doveva portare quel femminismo, quella cultura sessuale, dico dov'è perché abbiamo raggiunto tutta quella liberazione auspicata, ma i frutti sono totalmente opposti, negativi. E la cosa pazzesca e bizzarra è che nessuno si interroga, perché quando una cosa va male, per carità nessuno è infallibile, ma uno si dovrebbe interrogare come mai quel modello ci ha portato a questi esiti, ma questo è tabù. Faccio sempre l'esempio che sono tutti contro la vivisezione, ma pochissimi sono contro l'aborto, quindi mi sembra che sia di nuovo una questione di due pesi e due misure. Nell'attacco appunto al preesistente, alla tradizione, a quello che abbiamo chiamato l'ordine, vogliamo dire anche naturale, così mi prendo tutte le... Lo è, lo è, lo è, io lo credo che lo sia. Si può dire, non so se lei è d'accordo, che tutti quei movimenti cosiddetti libertari, si può dire che abbiano introdotto anche dei bisogni che l'uomo in fondo non sentiva come così urgenti e li ha fatti diventare urgenti. Questo... Noi avevamo una vita molto più semplice. Oggi, se noi ci guardiamo in prospettiva come vivevamo negli anni Sessanta e come viviamo oggi, abbiamo mille più bisogni da soddisfare, che sono in gran parte consumistici. Certo. Abbiamo gli smartphone, abbiamo una quantità incredibile di oggetti che sono indispensabili, soprattutto questo purtroppo con i giovani, con i ragazzini. Assolutamente. E quindi è stato creato, nel tentativo di liberarci, ci hanno creato delle catene ancora più pesanti da portare. Certo, ma questo era tutto previsto. Certo. Era tutto previsto perché prima accennavo a Axley e tra l'altro adesso mi sovviene che, però me ne dimentico il nome, un filosofo francese ha scritto un libro che si chiama Il capitalismo della seduzione. Secondo me, io non ho letto questo libro, ma il titolo è davvero azzeccato perché è un capitalismo della seduzione. Cioè l'uomo è stato messo, l'individuo intendiamo, è stato messo di fronte allo scatenamento dei suoi istinti più bassi, più bassi, senza nessun limite perché il limite che dava appunto la figura del padre che era portatore della legge, per carità con anche alcuni aspetti negativi e vorrei sottolineare, è andato distrutto e ogni limite si è rotto e l'asticella di ogni eventuale limite residuo sarà sempre più abbassata, tant'è vero che in Svezia stanno parlando anche di cercare di legalizzare la necrofilia. Detto questo, Axley l'aveva, questo scenario l'aveva già in una maniera mirabile perché ovviamente era uno scrittore molto dotato, l'aveva già prefigurato appunto nelle porte della percezione e in altri suoi testi, ma la cosa più incredibile, colgo l'occasione per dire che il prossimo mese, sempre per Solfanelli, uscirà una sorta di seguito al 68, che è un libro però più agile, dedicato totalmente a Axley, perché Axley nelle sue lettere, perciò è una cosa incontrovertibile, sono parole di Axley che sappiamo che apparteneva a un'altissima elite britannica, il fratello è stato anche a capo dell'UNESCO per dire, e lui ha scritto quasi 10.000 lettere nella sua vita, e lui scriveva che la popolazione in una maniera proprio uruguigliana, da 1984, doveva, a parte che era un grandissimo razzista eugenetico, e la popolazione doveva essere, in parole semplici, intontita con la soddisfazione dei bisogni e doveva perdere ogni sovranità perché questo stato di cose doveva bastarle, perciò quando lo storico Toninby, che apparteneva ai stessi circoli iniziatici a cui apparteneva Axley, andò nel quartiere californiano ad Haight-Hashbury, poi descrivere in quale modo, in una maniera dettagliata, non lo sappiamo, non ci sono cronache, però attenzione, parliamo di persone di altissimo calibro, perciò lì c'erano i mezzi, c'erano i denari a profusione, c'erano tutti i collegamenti con la stampa, quello che per esempio emerge anche nel 68, è una cosa che mi ha stupito tantissimo, che l'ambiente accademico, universitario, statunitense e inglese, era totalmente coeso e al sodo dei servizi segreti e delle liti iniziatiche, che poi è una cosa che abbiamo rivisto nei interrogatori a Guantanamo e compagna Bia Bella perché gli psicologi americani hanno redatto i manuali di interrogazione, perciò l'ambiente accademico non è foriero con poche eccezioni di pensiero libero, nella maniera più assoluta voglio dire, e nel mio piccolo questo libro è stato presentato a più di 300 editori e non l'avevo mai trovato, ho avuto la fortuna di trovare un editor che l'ha consigliato a Solfanelli, ma se no io non l'avrei mai pubblicato. Bene merite queste case editrici che... Sì davvero, davvero, è incredibile, ha dell'incredibile. Magari si fa fatica, anzi è quasi impossibile trovare nelle librerie che ormai assomigliano a dei supermercati, dove in prima fila ci sono libri scritti, fra l'altro non dalle persone che risultano gli autori, perché vivi, cantanti, insomma personaggi dello sport che scrivono le loro memorie. È importante, è molto importante leggerle, bisogna imparare molto dai calciatori. E poi invece magari quando vai a cercare un testo un po' diverso dal solito ti guardano anche male, fra l'altro. Assolutamente, anzi tendo a dire che io ho provato molte volte a chiedere questo libro in incognito dalle librerie Feltrinelli che non sono le ultime arrivate, il libro siccome non è distribuito attraverso dei canali maggioritari, il libro viene sempre segnalato come fuori catalogo, quando non è vero e si può avere solamente attraverso i provider, cioè la Feltrinelli online lo vende, ma uno va lì alla cassa e vanno a vedere nel computer e risulta fuori catalogo. Cioè è una cosa incredibile. Questo è un problema che con tutto il bene che possiamo volere i librai, però insomma bisognerebbe anche essere un po' più, avere più una... E noi invece troviamo il libro di Capanna sul 68, formidabile in quegli anni, quello c'è sempre da Feltrinelli. Sì, mai andato fuori Catà. Chiaramente è la visione del mondo di Capanna che però sarebbe interessante anche da affiancare qualcosa di diverso. Quello che volevo chiedere su un aspetto particolare che è quello della scuola di Francoforte. Sì. Di cui oggi si riparla perché negli ambienti appunto che combattono contro questo pensiero unico, si parla di marxismo culturale. Sì. Rifacendosi proprio alla scuola di Francoforte, quindi Adorno, Marcuse. Certo, Horkheimer. Horkheimer. Qual è stato il ruolo di questi pensatori nella struttura del 68 come forse qui, a parte Berkeley dove c'era appunto la rivolta in California eccetera, però poi la Sorbona, Parigi, il maggio francese e poi in Italia. Ecco, qual è stato il ruolo della scuola di Francoforte? Anche lì sono stati compiuti dei tradimenti, c'è stata della gente che ci ha creduto allora a quello che dicevano, che proponevano. Invece poi che cosa è successo? Lei tocca un argomento molto interessante, per esempio in realtà molto complesso e le dico anche questo che mi sta molto a cuore personalmente perché io Minima Moraglia di Adorno per me è stato quello che si dice un libro del Scheveno, un libro del Comodino perché ne rimasi assolutamente affascinato fin dal 1970 perché io seguivo tantissimo la cultura underground, la cultura che veniva dai ciclostili eccetera eccetera, dove ovviamente Adorno, Marcuse, un po' meno Orkheimer la facevano da padrone. L'importanza è enorme, c'è da considerare che oggi come oggi un nume internazionale della cultura globalista e mondialista che è accolto con i famosi tappeti rossi, cioè Roberto Calasso ritiene Minima Moraglia un libro insuperabile. In realtà l'istituto di Francoforte era molto collegato con l'istituto Tavistock e ha costituito in quella ricerca che ha degli aspetti spaventosi, c'è la ricerca che loro editarono, era un lavoro collettaneo di molti autori, la personalità autoritaria, la personalità autoritaria è stata la Bibbia del 68 perché addirittura stilava un indice di fascistizzazione delle persone con dei canoni che sembrano di una stupidità, di un'imbecillità spaventosa. Adorno è stato un grandissimo maestro dell'impostura. Si parlava prima della musica, l'aver contrabbandato la musica dodecafonica, la musica che allora si chiamava moderna, come una musica liberatoria, è una grandissima menzogna perché è una musica che genera dei stati di inquietudine che hanno dell'incredibile. Ma non solo, adorno, proprio in minima moralia, un aforisma che prende in giro l'omosessualità, quando ci sono testimonianze di Cracau, che era un altro della scuola di Francoforte, che riportano che ebbero un rapporto omosessuale, era la classica persona gnostica che dice A per intendere Z, non sono farneticazioni perché chi conosce il pensiero di Leo Strauss, che tra l'altro è tutta una genia di intellettuali che provenivano dalla Germania e guarda caso hanno trovato in tempi bui come quelli del nazismo, hanno trovato, e per carità ne sono felice, che sia chiaro, hanno trovato la possibilità di emigrare e perciò dico, anche lì per emigrare di quei tempi ci volevano dei soldi non indifferenti, dei canali non facili, sono approdati negli Stati Uniti, alcuni a Londra e altri negli Stati Uniti, e al soldo, guarda caso, della fondazione Rockefeller, quindi in realtà erano giustamente contrari al nazismo, ma non erano sovversivi come loro volevano far intendere, per esempio Marcuse non era sovversivo per niente, perché ha lavorato per l'OSS che è stato nient'altro che l'antesignano della CIA, perciò lavoravano nei servizi segreti, e Eros e Civilizzazione nella edizione originaria in lingua inglese porta, o l'uomo o una dimensione, uno dei due testi porta un riconoscimento a Pertis Verbis alla fondazione Rockefeller, perciò lì c'era una comunanza di intenti fra poteri altissimi e pseudo-solversivi, quelli che poi hanno insufflato tutto il 68. Leggere ad orno è molto pericoloso perché si cade, come ha detto giustamente Roberto Calasso, in un rictus, cioè in una smorfia intellettuale, è difficile poi uscirne, e questa è di nuovo una pratica della magia dei veleni incantesimi che certa scrittura mette in atto. Si può dire anche che questi legami oggi diventano anche più comprensibili, anche più chiari, perché si parla per esempio di tradimento della sinistra, però se si va a ritroso nel tempo, questi legami con l'elite, con i banchieri, con i centri del potere, quelli veri, non quelli che veramente contano, ci sono sempre stati. Certo. Quindi alla fine sembra che stiamo andando verso un'epoca di disvelamento di questi, anche loro in fondo sono costretti a venire allo scoperto, a giocare a carte scoperte e a rivelare quelle che sono le loro origini, le loro radici culturali, le loro radici anche esoteriche, anche occultistiche in certi casi. Credo che insomma abbiamo toccato vari punti, sicuramente riusciremo ad invogliare i nostri, quelli che ci stanno guardando e che ci guarderanno, saranno invogliati a leggere questo libro, a approfondire tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Se c'è qualcosa che vuole aggiungere come nota finale? Grazie, come nota finale direi che gli ambienti nel prossimo libro appunto dedicato a Axi, gli ambienti che lui frequentava erano gli ambienti dell'eugenetica razzista inglese, che ospitò un teorico come Rudin della Germania nazista e congressi e riunioni di questi ambienti si tenevano normalmente a Londra come negli Stati Uniti. Perciò sarebbe importante, come è giusto condannare l'eugenetica razzista nazista, è giusto condannare anche chi ha aiutato a sorgere quel tipo di malevola cultura, senza distinzione di bandiere, di razze e di niente, perché sennò vituperare solo una parte è di nuovo esercitare la legge iniqua dei due pesi e due misure, cioè essere dei mistificatori. Leggere dei due pesi e delle due misure che oggi è la legge dominante. È imperante, è imperante nella maniera più assoluta. Perché se uno dice una cosa perché appartiene alla parte giusta, alla parte dei buoni, degli accoglienti, dei misericordiosi, va bene, tutto il resto non... Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Infatti tutto questo, io lo chiamo umano, troppo umano, nelle nostre sponde, che per carità da un punto di vista è giusto, ma quello che succede nella striscia di Gaza ne parlano pochissimi. Quindi dove sta tutta questa umanità tanto sbandierata con le bandiere arcobalene o in certi balconi? Senza parlare dello Yemen che... Esatto, è la stessa identica cosa. Per dire un altro luogo di guerra vera, combattuta, di gente che muore di fame, dove però non si parla. Bene, io la ringrazio moltissimo per questa chiacchierata. Spero che appunto lo scopo di questi incontri con gli autori è quello di invogliare chi vedrà questo video a acquistare il libro, leggerlo e magari insomma prenotarsi anche per il prossimo. Io ringrazio Danilo Fabbroni, autore di Il 68, il libro che vedete alle mie spalle, e do l'appuntamento al prossimo incontro sull'orizzonte degli eventi. Grazie a lei Barbara e grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata.